Nell'aula Oblò dell'Istituto Gadda di Fornovo è partito lunedì scorso, con una quindicina di iscritti, il dodicesimo corso di informatica Cappelli d'Argento, diretto da Enrica Groppi. Organizzato dal Cio Colanzani di Fornovo, il corso di 10 lezioni di due ore pomeridiani dalle 14 alle 16 terminerà a metà maggio circa. Gli allievi saranno seguiti da ben 9 studenti della scuola, in pratica quasi un tutor a testa. Mi chiamo Daniel e faccio la terza di Codessi d'Istituto, l'informatico. Dove abiti? A Varano, di Medegali. Carlo, terza informatica e abito a Giunta Lucia, di Medegiardo. Osam, terza informatica e medeglado docente. Emondo, terza informatica, abito a Recona di Medegali. Anas, terza informatica e abito a Porto Nord. Riccardo, terza informatica e abito a Varano, di Medegali. Lorenzo, quarto informatico e abito a Varano, di Medegali. Tommaso, quarto informatico e abito a Varano. Alessandro, quarto informatico e abito a Varano. Un insegnamento quindi altamente intensivo, diviso probabilmente in due gruppi, come lo scorso anno. Un primo, composto da chi si cimenta per la prima volta con la tastiera, il video e le leggi di internet, e un secondo per i più esperti, come chi è già capace di usare lo scanner o salvare i documenti. La prima lezione si è incentrata sull'accesso e l'insegnamento delle password, quella generale, poi una individuale assegnata ad ogni singolo capello d'argento. Sono state date anche le istruzioni per seguire le norme di sicurezza interno all'edificio. Oltre alla direttrice scolastica Margherita Rabaglia erano presenti Guido Dorni per i circolanziani e il presidente provinciale Ancescao Benedetto Daccardi.